Ciao a tutti, ecco, bentornati, sono stata un po' assente e niente, volevo far vedere che cosa uso di solito come routine per i capelli. Allora, intanto dico che il mio colore è questo qua, è il mio naturale, non uso tinte, non uso niente, però non lo so, sono metà chiara e metà scura, non ho ben capito comunque. Vabbè, allora di solito come impacco pre-shampoo uso questo che alterno circa, ultimamente lo faccio poco, però tendo a farlo se riesco una volta a settimana almeno, che alterno o questo o l'olio di cocco oppure uso una ricetta che se mai vi giro il video che faccio in casa con le proteine del grano di farmacia vernile, vi farò vedere il video, magari la prima volta che lo preparo, praticamente gli ingredienti sono aloe, ho un olio vegetale, ultimamente uso anche l'olio di argan, gel d'aloe appunto e proteine del grano, è facilissimo, bastano solo tre ingredienti diciamo. l'impacco tendo a tenerlo su almeno mezz'ora, più lo lascio su e meglio è, diciamo che se uso l'olio però inizio da questa parte qua e poi mi concentro soprattutto sulle punte, lo stesso vale se uso l'olio di cocco, mentre se uso l'impacco quello lì delle proteine del grano, lo mescolo bene anche sulla cute in quanto quello lì è anche anticaduta, ecco, mentre questi qua sono un po' più unti, cioè tendono un po' poi a far diventare grasso il capello, si sporca prima diciamo. E poi ultimamente sto usando, di solito cerco sempre di comprare dei shampoo con un inci abbastanza discreto. Adesso in questo periodo sto usando questo shampoo qua, che lo trovate a meno di un euro, e invece questo qua, che è il bottiglione che sto usando e mi sta piacendo molto, non è unto, è a base di cocco, è un balsamo. Non so se conoscete questa marca qua, io l'ho trovata per sbaglio alla Migros, al supermercato Migros se dirà in offerta. Sono 1000 ml di prodotto, ma l'avevo pagato sui 2,50 euro o una roba del genere. Comunque gli ingredienti sono fatti, questo è buono nel senso che è fatto di acqua, olio di cocco, un altro tipo di olio e tocoferolo diciamo. Dice che ridona corposità, robustezza e volume ai capelli secchi e disidratati consentendo una facile pettinatura. Non unge, non unge, è ristrutturante e idratante. Dio, non vedo miracoli, però nel senso, boh mi trovo anche bene ecco. Io di solito cosa faccio? Faccio un impacco, dopodiché bagno bene i capelli, prima passata di shampoo, sciacquo il secondo passata di shampoo perché ho i capelli ricci, adesso questo è niente a confronto di quello che di solito ho e quindi mi trovo meglio con due passate, vedo che si lavano bene. Poi cosa faccio? Gli schiaccio un pochino in modo da far scendere l'acqua in eccesso, passo il balsamo, so che di solito andrebbe aspettato, non ho tempo, quindi passo subito il balsamo, li pettino con questo qua, è sbagliatissimo pettinare i capelli se sono bagnati, so che andrebbero fatti da asciutti, il problema è che per chi ha i ricci sicuramente mi capisce, se hai i ricci non puoi pettinarli da asciutti, io infilo il pettine qua, oltre non va, proprio si incastra, è impossibile, è impossibile, l'unica appunto è con un bel po' di balsamo dopo averli ammorbiditi e da bagnati purtroppo. L'unica cosa che io appunto faccio, e che ve l'avrei detto dopo, è che non li asciugo col phon, nel senso che cerco di non dargli troppo stress, quindi calore del phon, piastre o tutte quelle cose lì. Quindi uso un pettine a denti larghi e cerco di tirare il meno possibile, perché già insomma si stressano da bagnati e almeno cerchiamo di dare il meno problema in aggiunta, ecco. dopo di che, di solito costa l'atterno una settimana sì, una settimana no, anche se avrebbe fatto il più spesso possibile. Ehm, sono le fiale, queste qua dei provenzali in vetro, la fialetta. Io la fialetta la uso tutta perché cerco di metterla anche bene qua dietro, di massaggiarla bene dappertutto. Le fialette sono queste qua di vetro. Ehm, niente, queste comunque sono tranquille, nel senso che voi le mettete dai capelli bagnati, massaggiate bene, poi procedete a quello che voi fate di solito, quindi all'asciugatura e quant'altro. Io dopo che ho messo questo qua, massaggio, massaggio bene e vado a mettere la fito 7. di solito, se devo uscire e quindi occorre che mi asciugo i capelli col phon, cosa che, non lo so, io ho un odio profondo per il phon, quindi cerco di farlo il meno possibile. Ehm, cosa faccio? Metto la fito 7, ripetino il capello di solito o con questo o con una spazzola, in modo che il prodotto si uniformi bene dappertutto. Asciugo i capelli e rivado a mettere un po' di fito 7. ne uso proprio una noce, spalmo bene e faccio proprio così, mentre prima passo anche con le dita tra i capelli, dopo invece faccio soltanto così per dargli un ultimo, un ultimo tocco, ecco, giusto, non per la piega ok, soltanto perché visto che gli ho dato una botta di caldo, allora gli do un po' di aiuto, diciamo. Ehm, non vi consiglio assolutamente di andare a letto con i capelli bagnati, fa malissimo la cervicale, io penso che ormai sarà da quando avevo 16 anni, forse anche qualcosa prima che non uso più il phon, so che è sbagliatissimo, me ne rendo conto perché a volte mi alzo che ho mal di collo, sono bloccata, però io non sopporto il phon, io non sopporto il phon e ho provato quel diffusore, quello proprio a cilindro grande per i ricci, però mi si gonfiano, mi fanno una testa enorme e non mi trovo, non mi trovo, a volte ecco, a volte, beh se è il periodo estivo mi piace un sacco farmi la treccia e poi andare fuori, in inverno cerco di evitare il più possibile problemi al collo, quindi magari mi faccio una treccia, oppure anche gli lascio sciolti, però gli avvolgo, ehm, o nelle maglie, come vedete su internet, no, quindi voi posizionate la maglia qua, la chiudete dietro con le maniche e vi fate una specie di turbante, o sennò ci sono anche gli asciugamani, adesso ve ne vado a prendere uno, arrivo subito, aspettate, se andate a prendere di là, questo qua è l'asciugamano che vi dicevo, è fatto così, è della Decathlon, voi praticamente andate a testa in giù, lo mettete storto, quindi la parte più grande e la parte più stretta sotto, lo infilate così, no, io di solito arrotolo i capelli dentro, cioè vengo fuori molto carina e poi c'è il bottone qua dietro, ne ho due, ne ho uno più stretto e ho questo qua che è più largo, quindi di solito, soprattutto se è più in inverno che fa freddissimo, lascio i capelli sciolti e non faccio la treccia, metto prima quello più stretto e dopo questo qua, più largo, in modo da evitare il più possibile il contatto dei capelli bagnati al collo, se faccio la treccia invece ne metto uno solo, di solito metto quello più stretto o se no metto la maglietta, ecco, e sì lo so, cioè lo ripeto, lo so che è sbagliatissimo, però ho proprio un rifiuto per il fondo. Ecco, questo è tutto, di solito io comunque il shampoo e il balsamo tendo a cambiarli spesso, tendo a non far sì che i capelli diciamo si abitui allo shampoo. Adesso sto usando appunto questo qua, di solito uso quelli della Garnier che hanno un inchi accettabile, oppure sto usando quelli della marca Ecos che sono certificati bio, lo stesso i balsami. E basta, mi pare insomma che vi ho detto tutto. Io questo qua ve lo consiglio, io l'ho presa in farmacia, l'ho trovata in farmacia, se non ce l'hanno ve lo ordinano tranquillamente. L'odore non è buonissimo, non so, sa un po' da plastichina ecco, però l'inchi è buono, lascia bene il capello, non unge, non fa l'effetto quello appiccicoso che ogni tanto alcuni gel, creme diciamo lo fanno. E niente, io gli sento più morbidi anche i capelli, nel senso che, cioè sono meno crespi, sono più morbidi. Adesso mi stanno crescendo i capelli, quindi ho tutti questi ciuffi, tutti questi ciuffi così un po' strani. E basta, ecco, questo è tutto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video e spero di riuscire magari a farvi la ricetta di questo gel alle proteine del grano, è facile, è semplice. Vi auguro la buonanotte, vado a letto. Un bacio, ciao!